Ha percorso oltre 40 km in 10 anni. Sembrano numeri piccoli, ma sono da record se conquistati sulla superficie non terrestre. A ottenere questo primato è il rover della NASA Opportunity. È approdato su Marte il 24 gennaio del 2004 e da quel giorno esplora la superficie del pianeta rosso, senza accusare l'età e la strada che avanza. Una prestazione che ha sorpreso anche il team di Opportunity, che l'aveva progettato per restare attivo 90 giorni e per correre solo un chilometro. Opportunity non ha intenzione di fermarsi proprio ora, che come dicono gli scienziati arriva il meglio. La prossima tappa sarà tra circa due chilometri alla cosiddetta Marathon Valley, uno dei siti più interessanti.